Musica Un viaggio da sogno, veramente Vogliamo far sognare le donne Quindi un viaggio bellissimo Di donne bellissime Che si fanno un weekend Decidono di farci un weekend In un paese bello Affascinante In un riad da sogno naturalmente Mi sono ispirata All'atmosfera del Marocco E anche alle suggestioni Di questo posto E soprattutto rivisitandoli In maniera chic e contemporanea Per una donna che ama viaggiare Ama fermarsi nei posti incantati E ama far sognare Chi la guarda soprattutto Musica Nella nostra collezione Ci sono tutti i codici Cari alla nostro stile Luisa Spagnoli ma rivisitati In maniera più libera Come per esempio In questo caso Vediamo il colore Tanto colore Diciamo I fiocchi Puà Le lavorazioni sartoriali Anche l'utilizzo di materiali preziosi Musica Perché non c'è una netta differenza Tra i due Ma una sottile linea Che praticamente Impreziosisce gli uni E invece sdrammatizza gli altri Volumi tanti Perché volumi li troviamo Nelle gonne Nelle pantagonne Possiamo definirle Nelle gonne overe Nei vestiti Ma nello stesso Anche nei trench Che sono oversize Come nelle giacche Che sembrano riprese Da guardaroba di lui Però resi femminili Musica Luisa Spagnoli È una stilista Che mi piace Perché sta spingendo E promuovendo Il messaggio Delle donne pioniere E quindi Forza alle donne Portare avanti Anche l'eleganza Della donna Di una donna Che non sia solo Un oggetto Una donna sicura di sé È una donna Che ha voglia Di affrontare il mondo In tutte le sue specifiche Secondo me questo è un messaggio Meraviglioso da dare Tantissimi saluti A Fashion TV Sì Sì Grazie a tutti.